Buongiorno, mi chiamo Elvira Ismagilova, sono russa, ho studiato la lingua italiana all'Università per stranieri di Siena, vorrei leggere una poesia di un grande poeta russo, Aleksandr Sergeyevich Pushkin. La poesia parla del futuro e del presente, del presente e del futuro. L'ottimismo di Pushkin è diretto verso il futuro. Il presente è spesso percepito dalle persone in una luce fioca ed esolata. Non può rimanere inattivo. La felicità può essere raggiunta solo se ti sforzi da solo. Tutto passerà, dice il poeta. In un futuro felice, il passato sarà percepito in modo completamente diverso. Anche nei problemi passati, una persona sarà in grado di vedere momenti gioiosi. E se la vita ti sforzi da solo. Non ci 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 sforzi da solo. Se la vita ti sforzi da solo. Non ci sforzi da solo. Nel giorno della tristezza umiliati. Credi, arriverà il giorno del divertimento. Il cuore vive nel futuro, tutto è istantaneo, tutto passerà, ciò che passerà sarà bello.